Ok, ciao amici cari, questo video lo faccio intanto per augurare un buon Natale a tutti quanti di cuore sperando che il Natale porti veramente gioia per questo 2015 che ne ha veramente bisogno vi ricordo Lifehacan, la mia invenzione, spero che i prestigiatori lo compreranno e anche i non addetti a lavori per forza, perché questo effetto lo potrà fare un anziano come una casalinga, come un neofita, chiunque potrà affrontare Lifehacan 2704 2704 perché sono le possibilità e le probabilità da 1 a 2704 che accada e accadrà sempre come avete visto nel mio video Ciao ragazzi, Stefano Nobile, un abbraccio di cuore